Raga voi non avete idea cosa è successo in questo video Praticamente Cap mi aveva chiesto di registrare un video insieme a lui in un semplice nascondino Però c'è stato un piccolo particolare che io non sapevo Cioè il fatto che lui stesse utilizzando delle hack con cui poteva vedere il mio schermo Quindi dopo tanto tempo è riuscito a trollarmi per la prima volta Mi raccomando raga guardate tutto il video fino alla fine per non perdervi la mia reazione Oggi raga per la prima volta farò un video del nascondino insieme a Captain Blazer Allora vi spiego brevemente le regole ci saranno 3 round quindi il primo che arriva a 3 vince Noi ci dovremo nascondere ovviamente in questa mappa e ogni 15 secondi faremo tipo una specie di rumore strano Con l'oggetto che utilizziamo per nasconderci e l'altro grazie a questo oggetto dovrà riuscire a cercarci Davvero? Mi raccomando raga prima che inizi il video mettete tutti un bel like in questo momento E iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video Se volete partecipare ai miei contest mensili di 10 euro soltanto per coloro che mi supporteranno Inserite il codice e mandatemi la foto su Instagram che l'avete inserito Zerbian io te lo dico sarò introvabile non mi troverai mai Anche a me mi troverai mai fidati Io cerco pure ok Nooo ok io cerco sì io cerco Ok 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 allora iniziamo iniziamo con calma Ma io sono tipo qui bloccato What? In che senso sei bloccato? Sono bloccato in un muro ma non posso proprio più uscire E beh è normale Ah beh beh infatti Sì 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 c'era ragione c'era ragione Ma è la prima volta che la giochiamo giusto? Sì è la prima volta che la giochiamo Oh io li posso trovare ora Ehi ehi sì sì Ti prego non l'ho mai vista Ti do altri 15 secondi Zerbian va bene grazie grazie Va bene raga penso di aver trovato il mio oggetto No aspetta aspetta No ok 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 ho trovato in assoluto il mio oggetto Ora so già in teoria il posto in cui potrei andarmi a nascondere Zerbian scusa per il tempo limite che ho Allora mi darei anche a me 15 secondi di tempo in più eh Zerbian aspetta ma stai già cercando? Zerbian sento i tuoi passi ti giuro Come fai a sentire i miei passi? Dai Zerbian No io ti sento Zerbian non è giusto eh No non sto cercando Zerbian hai sentito cercare? No sono qui che sto camminando No ho già detto ho detto che mi butta giù nella mappa automaticamente Quando finisce il tempo Va bene va bene va bene comunque puoi già cercare Allora hai come al solito tre indizi Ok Non hai mai questi otto minuti di tempo perché sono troppi Facciamo una cosa Uno a Va bene va bene però Non solo per coprire il suono Mettiamo una regola Che non abbiamo detto Non si può sternutire fare casino mentre c'è il suono del ping va bene? Non si può sternutire No 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 non si può fare Non si può fare rumore Ma per esempio metti caso che io adesso No dai zitto non farò Va bene va bene lo farò anch'io Cioè se io devo parlare per caso Non metti per caso perché Stai zitto Non parlare Sì Devo stare zitto No Ma scusa Zerbian No zitto non parlare Eh no non posso stare zitto Eh no e purtroppo non posso Guarda 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 Zerbian Ah Zerbian Io ti posso dire solo una cosa Ti vedo Mi vedo ok Stai scendo da una casa Stai andando Aspetta Stai andando su un ponte E hai sparato adesso tipo un dinosauro Ma sei questo? Che cacchio sei? No non sono lui Dimmi soltanto se sei dentro o fuori la casa Sono dentro ad una Ad un piccolo edificio Dentro ad un piccolo edificio Ok Ti dico è veramente molto piccolo il mio edificio C'è Beh Beh ok Un inizio l'hai già usato Dimmi quali altri indizi vuoi? Altri due indizi Altri indizi La parte prima Sono nella parte A nord Dove è la campana? Vedi dove c'è tipo un campanile Con una campana? No Come no Ti giuro che non la vedo Allora sei verso il basso Perché se no lo vedi per forza Ok va bene Teresco in questo momento dove sei? Aspetta Lo so Ci provo a immaginare Sei vicino una carriola Vicino una carriola Sì Vabbè sarà pieno di carriola per tutta la mappa Eh sì 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 Decorato di così Intanto Intanto io so dove sei Chissà come Non è che sei tu tipo la carriola Mi stai trollando Zerbia Non ti posso dire dove sono Comunque te lo dico Hai veramente poco tempo per trovarmi Perché Mancano cinque minuti Facciamo così Anzi è troppo difficile sta mappa comunque Facciamo così Ti do altri due minuti Così esattamente Cinque minuti e mezzo per trovare E tanto il tempo Quando finisci come faccio? Eh eh Allora Allora Cacchio sei finito Sto sparando all'interno di una casa Non è vero? Sì no 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 Sto sparando con il senatore Ora stai sparando a un letto A un poster tipo Come fai a vedermi? In che senso come faccio a vederti? Non è che sei invisibile Mi stai seguendo? No 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 Non sono invisibile giuro Giuro questa volta non sono invisibile L'ho già fatto Brawl Troll E poi c'era anche te Quindi non sono invisibile Non sono invisibile L'unico modo per diventare invisibile È la tua mappa Quindi non posso essere invisibile Mmm Le cacchio sei finito No tu mi stai trollando capo Perché Zerbia Perché spari Perché spari ai tavoli ribaltati Zerbia Perché spari ai tavoli E come E scusa come facevo? Come fai a sapere Che c'è il tavolo ribaltato qua? Se non sei qua dentro Adesso sarai una di queste robine qua piccole A cosa stai sparando? Zerbia Perché continui a sparare i frigoriferi? Perché ha le lattine? No comunque quelle lì Si prendono tutte insieme Se tu provi a prenderle Te le prende tutte automaticamente Quindi non potrei Allora Fami ragionare Devi essere per forza qua dentro Per vedere dentro questa casa Beh però io se no Ti ho visto anche dentro un'altra casa Zerbia Sei per forza in un punto alto tu Tu sei in un punto alto Allora ieri abbia registrato il nascondino no? Si Non ti sembra strano che io Un giorno dopo l'altro Abbia fatto due video di nascondini identici? C'è qualcosa sotto? C'è qualcosa sotto Allora io te lo dico Ho modificato il mio gioco Ti posso dire solo questo Comunque sia Zerbia Adesso mi dici dove sei? Perché voglio sempre come mi vedevi Sono esattamente qui E come facevi a vedermi qua dentro? Sono esattamente qui Come facevo a vederti? Ah ti muovevi quindi? No 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 Non mi stavo muovendo Ho vinto Allora non mi stavo muovendo Ti posso dire solo questo Ero letteralmente immobile Sono sempre stato fermissimo Ma fermo proprio Fermo fermo Ed ero uno schavello E ti posso dire E eri tipo sulla punta del campanile? Cosa? Eri sulla punta del campanile? C'era un campanile? Sì scusa dove ci vuoi vedere da tutte le parti? Ho detto che ho modificato leggermente il mio gioco Hai messo le hack? Allora Te sai che ci sono dei siti Cui puoi acquistare Tipo Tipo dei power up Tipo dei boost Per il tuo gioco no? Che ti fanno vedere un attimino meglio Hai messo le hack per vedermi? Hai le hack Hai le hack che capisci dove sono io? Allora Ho capito cosa intendi Diciamo che Questo lo devi scoprire te Se le hai Se le hai non dirlo nel video Perché sennò magari ti banno le pei games Hai capito? No non penso No no fidati Ti banno Ti banno Non dirlo nel video Va bene Allora nel video non lo dico Quindi Zerbi Allora diciamo che io Potrei essere facilmente Aiutato A trovare te Per esempio no? Se io ti dicessi Che ti stai trasformando In una roccia E stai comprensendo No no Aspetta ma tu mi vedi dall'alto? Beh ti potrei vedere No 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 Non vale Aspetta No mi dovevi dare 30 secondi in più Come gli ho dati a te È vero va bene Allora mi giro Mi giro e mi metto qua giù Non vale Mi giro e mi metto qua giù Va bene va bene va bene Mi giro e mi metto qua giù Va bene mi metto su questa roccia gigante Così a me lo hai Tutto 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 il tempo per nasconderti Intanto Mentre cerchi di diventare un cactus Oppure un cespuglio Di quelli lì che cambiano No Ho detto che non mi puoi vedere Cappo E allora come mai sapere dove sono Guarda dal video Guarda dal video Ispidati che non ti sto vedendo Te lo giuro Te lo giuro proprio Te lo giuro Stai facendo cambiare ogni volta cosa Fermo Servi Sei pronto? Aspetta 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 Ancora ti sei nascosto? Ok vai Sono perfetto Sono perfetto In questo periodo vanno ancora Oh no Però ti giuro che tu sei solo Da qualche parte che mi stai guardando Ok Il cacchio sei Quindi stai fermo Aspetta fermo Aspetta 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 un'ideona Un'ideona Aspetta un altro Qual è la tua ideona? Vediamo Aspetta aspetta Diventare per esempio Quelle lattine di coca cola Che ci trovano magari sui paesi Non vale No E da vivere la casa Assolutamente più Ah eh sì sì E se io invece Sai cosa faccio? Adesso mi nascondo dentro una casa Così dall'alto non mi vedi più Sì Aspetta Va bene E se io ti dicessi che sono Più o meno vicinissimo a te Perché ho appena sentito i tuoi passi Non mi hai idea di dove tu sia Aspetta vai Io ci sono poi Aspetta 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 Ok vai Sì Non te l'ha mai detto Che nel serio in questo periodo Non vado No bro ti giuro Che tu stai usando le hack Per forza Ma che hack? Le hack Ma Zembia Cioè insomma Mi accusi in questo modo? Mi accusi in questo modo Ma te dove cazzo sei? Allora aspetta Aspetta Questa qui è la parte bassa Della mappa Te invece dovresti essere Nella parte in teoria alta Poi almeno Io immagino Presuppongo E tu si vieni nella parte Quella alta della mappa Quella magari Nell'ultima casa L'ultima casa Sì Magari la penultima O l'ultima La penultima O l'ultima No Tu stai Tu stai citando Va bene Zerbian L'hai scoperto Sto citando Stai usando le hack? Sto usando le hack Fidati che ti bannano Ma che mi bannano Zerbian Ma che mi bannano È tipo illegale Usare le hack Ti bannano Fidati Non usarle Fidati bro Stai facendo una cavolata Stai facendo una cavolata Fidati Oh Fidati di me Che ti bannano Susi le hack Non fare vedere Che le stai usando Fidare di te Effettivamente Mi sembra un po' Un'esagerazione Chiederti fidarsi Ti ricordi Ti ricordi che a inizio del gioco Avevano denunciato uno Perché usava le hack? E poi che non ti facciano Chiudere il canale a YouTube Vuoi cercare su internet? Fidati di me Non fare questa cavolata Non utilizzare le hack bro Eh vabbè Zerbia Massimo le censuro Censuro il nome Ah beh Allora se censuro il nome Va bene Ok Te hanno rilasciato le gabbie? No Non le hanno ancora rilasciate E perché io sento Anzi vedo Che stai andando su No Mi sono dimenticato Questa cosa comunque non vale Io te lo dico che non vale Zerbia L'hai sparato Oh Oh aspetta T'ho visto T'ho visto T'ho visto Forse t'ho visto Come hai fatto a vedermi T'ho detto che non sono un oggetto Porche miseria abitudine Ma dove cavolo sei finito T'ho detto che mi hai sparato Allora T'ho sparato Aspetta un secondo Aspetta Aspetta un attimo Ho un'idea Mi nascondo un attimo Dentro una cosa Tu mi dici se sto ballando Se non sto ballando Ok Per vedere se sei veramente là Va bene Ora Stai ballando caso Caso Quadrifoglio Quadrifoglio Zerbia Ora Ora niente Ora niente Ora Una gran fanfara Bro Ma devi passare anche a me Quest'hack però dopo eh Voglio provare a usarli anch'io Eeeh Adesso chiede No no dai In parte di scherzi Me lo devi dare probabilmente anche a me però Comunque L'ho presa da un sito russo Che non mi faccio vedere Era casa assurda T'ho visto T'ho visto Non vale Non vale Esci Esci Non vale Non vale Non vale Come faccio ad arrivare io da te scusa Hai rampino Sveglio Ah è vero 4 3 2 1 Sei morto No ho vinto io Ho vinto io Ho vinto io Per me sei scarsissimo Ah io sono scarsissimo Non sei tu quello che usa le hack qua Comunque pirla 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 C'hai ancora la condivisione schermo accesa Dallo scorso video No vabbè Quindi non stai più usando le hack Pirla Ti non stai usando le hack Sei un pirla No vabbè Non sei un pirla Vabbè Quindi non stai più usando le hack Mi hai illuso Ho sperato Ho sperato Ho detto Se qua ci credo è una cosa assurda Ci hai creduto Vabbè ma Perché io non Io non ho la schermata aperta Del programma Perché io sto guardando Fortnite Eh infatti Come faccio a non mettere il gioco No mi hai illuso Pensavo avessi le hack Wow raga Raga capo per la prima volta Riuscite a trollarmi Anche perché in quel momento Io veramente pensavo Che lui stesse utilizzando le hack Non sarei mai andato a pensare Che stesse utilizzando Il programma Che avevo in background Per lo scorso video Vabbè raga Cosa assurde Comunque Spero che a questa tipologia di video Anche se è stata un pochino Diversa dal solito E non è andata completamente Come pensavo andasse io Vi piaccia Mi raccomando Arriviamo a 5000 like Se volete che io provi a fare Questo tipo di troll Magari ad un altro youtuber Instagram Sunti in descrizione E noi ci vediamo A un prossimo video Bye raga Ciao ciao